Milena anche col Pordenone che era una partita alla vigilia difficile il Brescia l'ha risolta subito? Beh subito no perché sì abbiamo sbloccato la partita 2 a 0 però poi loro sono state bravi a fare gol sono rientrate un po' in partita poi quando siamo rientrate il secondo tempo insomma abbiamo accelerato un pochettino e quindi la partita si è messa bene per noi ma forse anche il primo caldo oggi c'era veramente caldo ha condizionato un po' il gioco e il ritmo anche di gioco. Milena in settimana si è giocato Tavagnacco Torres risultato vinto la Torres adesso la classifica un po' più chiara? Sì è stata una partita bellissima l'ho vista è stato veramente uno spot bellissimo per il calcio femminile peccato che l'abbiano data alle undici e mezza di sera ma è stata veramente una partita di alto livello ma io mi ripeto lo sapevo nel senso che il campionato si deciderà l'ultima partita di campionato qui a Brescia con la Torres e insomma la Torres ha dimostrato quello che io penso sempre che è una squadra abituata a queste partite abituata a partite dove devi vincere per forza e l'ha dimostrato Tavagnacco. Martina 25 vittorie consecutive un record che migliorate domenica dopo domenica. Sì sono molto contenta al di là del record in generale della mia squadra però spero che non ci fermiamo qua di non fermarci qua. Per te oggi una bellissima rete undici gol anche una stagione personale da incorniciare. Sì sono contenta per il gol per la stagione comunque merito comunque di tutta la squadra che c'è al supporto e speriamo di finirla nel migliore dei modi. Giulia oggi era una partita difficile però l'avete risolta subito come al solito. Sì beh all'inizio abbiamo fatto un po' in fatica a ingranare diciamo non riuscivamo a giocare palla a terra e hanno giocato meglio loro i primi penso dieci minuti finché la Martina ha fatto gol. Dopo abbiamo iniziato a giocare e diciamo che siamo state brave che ogni volta che siamo andate giù abbiamo fatto gol e quindi questo vuol dire tanto dopo ti carichi. Poi al primo tempo c'era molto caldo quindi comunque state brave a sbloccarla subito. Giulia 25 vittorie consecutive sono frutto sia di mentalità sia di uno stato fisico ancora ottimale e poi di cos'altro? Eh del gruppo cioè nel senso che ci troviamo molto bene c'è voglia di far bene sappiamo che non possiamo sbagliare e poi comunque ognuno dà il massimo di quello che può dare. Gli errori ci sono però dopo si cerca di recuperare insieme quindi questo vuol dire tanto. Mister anche oggi il Pordenone ha messo in difficoltà il Brescia come all'andata. 20 minuti ottimi? Sì è una piccola soddisfazione ma una grande soddisfazione perché venire in casa della squadra più forte di tutti i tempi e starli all'altezza per un quarto d'ora a 20 minuti è una bella soddisfazione. Un applauso alle ragazze che non hanno mai mollato né sul 1-0 né sul 5-1 quindi soddisfatto. Forse l'espulsione e il rigore hanno condizionato il resto del match? Sì per l'amor di Dio noi pensiamo a far bene la prossima partita che è lì che dobbiamo fare punti chiaramente venire a Brescia per portare via qualcosina era un miracolo non è successo giustamente perché è una squadra fantastica quella a Bresciana è giusto così.